Anche la Wiesman è presente qui ad EnergyMed, quali prodotti offrite? Offriamo una gamma molto vasta di prodotti, dalla caldaia residenziale fino a caldaia industriale, da pannelli solari, microcogeneratori, caldaia e vapore, quindi abbiamo una gamma ampissima, quindi diciamo a soddisfare tutte le tipologie di impiantistiche. Tipologie di impiantistiche comunque vanno sempre nell'ottica di risparmio energetico? Sì, siamo un'azienda che facciamo del nostro motto del risparmio energetico, assolutamente. Come si riesce a coniugare il meno consumo più risparmio? Abbiamo dei prodotti che fanno ad esempio caldo-freddo e hanno un energy manager dove praticamente impostando alcuni valori tipo il costo del gas, il costo dell'energia elettrica, le fasce orarie, in automatico gestisce il punto migliore di funzionamento e quindi di risparmio energetico, quindi lo fa in automatico, quindi è una garanzia di risparmio. C'è qualche prodotto in particolare che va proprio nell'ottica di risparmio energetico? Sì, abbiamo anche le nostre pompe di calore, quelle che dicevo che si chiama Vito Caldense 222, dove praticamente c'è proprio questo sistema che c'è in abbinamento una caldaia, condensazione con un microcogeneratore, quindi dove praticamente c'è questa possibilità di gestire o il funzionamento caldaio, quindi a gas o a elettrico. E quindi l'abbigliamento di questi due prodotti, poi è venuto da risparmio energetico con questo energy manager che ripeto, intendendo alcuni valori e conoscendo l'impianto, riesce a gestire in maniera autonoma assolutamente la gestione appunto di funzionamento a gas oppure a elettrico. Grazie. Grazie. Grazie.